quindi buongiorno a tutti nuovamente e oggi parliamo di autenticazione autenticazione in react e sul nostro server http che riutilizziamo per le nostre utilizziamo per le nostre piai ma riutilizziamo anche visto che l'abbiamo per fornire una autenticazione e anche autorizzazione alle nostre chiamate che vengono dall'applicazione react per far ciò useremo al di là delle delle slide che vedete qui aperte in piccolo diciamo sullo schermo anche il progetto che è su dtab che se lo aprite è una versione diciamo così un react score col server mini nel senso che se lo aprite potete vedere che al suo interno e se lo eseguite anche al suo interno per esempio c'è solo la parte due effect mancano tutte le funzionalità relativa all'aggiunta la modifica l'eliminazione dei degli esami questo perché appunto è una versione mini e anche il server a quelle funzionalità in meno quindi le ho rimosse da questi due progetti questo perché così abbiamo un progetto più conciso più piccolino e su cui andare aggiungere l'autenticazione e quindi vedere se poi voi dovrete prendere queste parti e riutilizzarle le parti di autenticazione e riutilizzarli in altri progetti ovviamente avrete con un progetto più facile più semplice e più facile poi prendere quelle parti e portarle su un altro progetto quindi senza avere tantissimi metodi tantissime elementi che fanno cose diverse tanto più che per l'autenticazione praticamente una volta che applichiamo gli elementi di autenticazione e poi di autorizzazione alle chiamate che abbiamo già e all'applicazione react alla chiamata sul server che abbiamo già e all'applicazione in react in generale che attraverso le modifiche che faremo oggi non ci sono poi elementi particolari che o modifiche in realtà sostanziali diverse da quelle che faremo oggi sugli altri metodi sulle altre funzionalità di aggiunta rimozione cancellazione quindi questo è lo stesso progetto react score solo molto la versione mini senza tutte le funzionalità interattive per concentrarci soprattutto e non perdere tempo non perdere attenzione ho sbagliato il metodo non mi ricordo vera scrollo tre pagine per arrivare dove ho bisogno per aggiungere appunto l'autenticazione vi forniremo comunque poi una soluzione magari anche più completa di quella che riusciremo a vedere in aula del progetto react score intero quindi anche con la parte di aggiunta modifica cancellazione su github nei due repository che sono comuni a entrare a tutti e tre i corsi quindi react score per la parte react e react score server per la parte server implementando l'autenticazione questo solo per anticiparvi questo progetto che teniamo aperto perché man mano che faremo le slide faremo anche un pezzo di questo progettino o in react o un server appunto modificando contemporaneamente in maniera vicina e entrambe le entrambe progetti prima di partire però con la lezione vera e propria fatemi dare un po di avvisi partiamo da oggi oggi che il 27 maggio è l'ultima lezione del corso poi scegliete voi se essere contenti o tristi ma è comunque l'ultima lezione del corso questo perché perché se ricordate abbiamo fatto sei ore in più all'inizio del semestre le prime due settimane abbiamo fatto tutte le ore di laboratorio anche ore di lezione e quindi adesso recuperiamo quelle ore quindi le prossime due settimane di di corso non avremo più tre ore di lezione al giovedì quindi oggi è l'ultimo argomento che facciamo nella lezione i prossimi giovedì non ci sarà più lezione e non ci saranno più incontri diciamo così obbligatori o comunque registrati come come appunto una lezione e per l'esame quantomeno e mentre i laboratori dato che le prime due settimane non li abbiamo fatti perché abbiamo fatto lezione al loro posto continuano regolarmente fino alla fine del corso quindi fino a se fino a fine semestre quindi fino a 7 giugno incluso mentre non facciamo più lezione giovedì prossimo e fra due giovedì utilizziamo quelle ore quegli slot orari per due attività libere facoltative ovviamente e il 3 giugno quindi giovedì prossimo alle 10 quindi non alle otte e mezza come oggi ma alle 10 dalle 10 alle 11 e mezza ci sarà un seminario di un'azienda di un spa di torino che si chiama consult sistemi che appunto è un seminario aperto a tutti gli studenti di ingegneria informatica tutti gli studenti del poli in realtà che vogliono partecipare ma è un seminario concordato soprattutto per voi di questo corso quindi riprenderanno in parte alcuni elementi faranno vedere come utilizzano react e altri framework simili nel loro lavoro quotidiano e faranno anche un cenno sulla parte di testing di applicazioni web che noi non abbiamo fatto ma che può essere interessante come spunto come approfondimento così individuale o per vedere cosa fanno nel mondo aziendale e ovviamente vi invito dato che un corso è un seminario preparato per questo corso quindi sugli argomenti in un certo senso di questo corso a partecipare numerosi almeno voi che seguiti in diretta principalmente a voi che seguiti in diretta in quanto già partecipate a queste ore e useremo il link zoom delle lezioni quindi questo stesso link su cui siamo adesso collegati 3 giugno dalle 10 alle 11 e mezza il 9 giugno o mi piacerebbe dire entro il 9 giugno pubblicheremo le specifiche dell'esame del primo appello le specifiche del progetto d'esame per il primo appello quindi quel giorno speriamo entro quel giorno ma diciamo entro la fine di quel giorno pubblicheremo sul sito le specifiche del progetto d'esame per il primo appello che se ricordate dalla regola d'esame ogni specifica di esame per ogni appello viene pubblicato 20 giorni prima della data dell'appello quindi l'appello dovrebbe essere intorno al 29 giugno e 20 giorni prima fa il 9 il 10 giugno alle 10 dalle 10 fino alle 11 e mezza o anche meno in realtà in base a quello che c'è bisogno faremo una sessione libera aperta per chi vuole sempre su zoom di domande e risposte sulle specifiche d'esame cosa vuol dire? vuol dire che se noi scriviamo le specifiche d'esame i docenti dei tre corsi scrivono le specifiche d'esame le guardiamo, le leggiamo ovviamente poi le pubblichiamo ma se voi avete un dubbio, una domanda qualcosa che non è chiaro su quelle specifiche e volete capire meglio o volete avere un'indicazione maggiore in quel momento è un momento live in cui potete chiedere e noi possiamo rispondere direttamente ma anche collezionare queste domande e farle accompagnare poi al tema, al testo d'esame vero e proprio a queste delle specifiche e quindi aggiornare eventualmente le specifiche d'esame con alcuni chiarimenti che emergono alle vostre domande o comunque collezionare le domande e renderle poi disponibili per tutti questo in aggiunta a Slack in quanto faremo anche un canale Slack dedicato alle domande sul primo appello sul testo del primo appello quindi anche se in quel momento non potrete partecipare o non avete domande perché non avete non siete riusciti a leggere il testo d'esame essendo stato pubblicato magari il giorno prima comunque poi avrete il canale Slack un canale Slack apposito oltre a tutti i canali Slack che già avete la possibilità di mandare messaggi diretti come avete potuto fare finora e quindi quello non cambia avrete anche un canale apposito in cui fare domande per l'esame quindi chi vuole fare domande può fare domande gli altri possono leggere le domande fatte dagli altri e noi risponderemo io risponderò in quel canale su eventuali dubbi sul tema, sul testo d'esame questi sono gli avvisi per oggi e in realtà il calendario anche fino alla fine del semestre prima dell'inizio della sessione d'esame oggi ultima lezione ma i laboratori continuano 3 giugno ore 10 seminario di Consoft qui stesso luogo online alle 10 non all'8 e mezza entro il 9 giugno pubblicheremo tutti i tre corsi le specifiche d'esame per il primo appello del progetto del primo appello e 10 giugno alle 10 sessione online sempre qui su Zoom sulle specifiche di domande risposte sulle specifiche d'esame per chi ha ovviamente domande o per chi vuole sentire le domande degli altri ovviamente tutto questo ripeto in aggiunta a Slack che rimane comunque attivo fino alla prossima edizione del corso quindi fino a cosa sarà marzo 2022 perché ovviamente non c'è solo il primo appello ma c'è anche il secondo c'è anche l'appello di settembre e così via ultimo avviso più domanda avete compilato il questionario CPD a ieri sera l'anno degli iscritti al corso di prima iscrizione che potevano compilare il questionario secondo il portale l'hanno compilato il 21% circa delle persone che potevano se l'avete compilato fantastico grazie se non l'avete compilato vi ricordo che avete tempo fino al 13 giugno di farlo per farlo vi raccomando se vi è possibile di dedicare quei 10 minuti o meno dipende a compilarlo perché io ma in realtà anche tutti gli altri docenti dei corsi in parallelo leggiamo i questionari e anche i commenti liberi quando ci sono e ne teniamo conto per poi progettare l'edizione seguente del corso dato che questo è un corso comunque relativamente nuovo in quanto è iniziato l'anno scorso e questa è la seconda volta che viene erogato ci possono essere degli aggiustamenti questo è vero in generale ma per un corso nuovo è ancora più vero l'anno scorso quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo fatto vari aggiustamenti anche significativi per alleggerire anche il corso secondo noi alcune cose sono andate bene altre sono migliorabili però avere anche la vostra prospettiva ci aiuta sicuramente a fare un corso possibilmente migliore per l'anno prossimo quindi per i vostri per i vostri colleghi che verranno negli anni successivi quindi ripeto questionario cpd sul portale se potete compilatelo entro il 31 entro il 13 giugno poi viene viene chiuso se l'avete già compilato e quindi siete in queste 17 persone su 80 che l'hanno compilato fantastico grazie mille domande su beh magari non su questionario cpd ma sulla parte precedente se no passiamo a l'ultimo argomento del corso a questo punto ok direi che dato che nessuno scrive possiamo assumere che non ci siano domande quindi quindi passiamo a parlare di autenticazione prima di parlare praticamente di autenticazione e autorizzazione diamo una piccola distinzione tra autenticazione e autorizzazione che spesso sono usate nelle applicazioni web insieme per proteggere l'accesso a un sistema qual è la differenza sostanziale in poche parole l'autenticazione verifica che tu sia chi dici di essere quindi tipicamente quello che capita su un sito web è che voi inserite un utente password e in base al non utente password il sito vi permette delle azioni personalizzate per voi in base alla vostra storia nel nostro caso degli esami in base ai vostri esami e così via l'autorizzazione invece decide se voi che vi siate autenticati o meno avete il permesso di accedere a una ricetta risorsa quindi voi fate il login con un utente password su un sito e avete un ruolo in quel sito e quel ruolo vi permette vi autorizza a fare determinate cose e a non farne altre un ruolo diverso può fare un sottinsieme diverso di cose e questo ovviamente dipende da l'identità quindi ci saranno alcune cose che sono tutte autorizzate a fare anche se non sono logati quindi anche non hanno fatto una fase di autenticazione e altre cose che invece sono relative ai ruoli ci sarà il ruolo all'amministratore che avrà certi privilegi di autorizzazione e il ruolo invece utente più semplice che ne avrà altri tipicamente un sottinsieme sviluppare più che progettare sviluppare meccanismi di autenticazione e autorizzazione ha una serie di diciamo caratteristiche prima di tutto è complicato è lungo come tempo è prone a errori e spesso soprattutto nei giorni d'oggi può richiedere l'interazione con sistemi di terze parti quando sui siti vedete fate il login con facebook fate il login con google e così così quindi richiede l'interazione tra chi ha realizzato il sito e facebook google eccetera e così via sicuramente coinvolge sia i client e sia un server in generale questo è l'ultimo argomento del corso per cui non andiamo troppo in profondità su questi aspetti che si avvicinano anche ovviamente al mondo server side che noi abbiamo giustamente toccato relativamente poco e si avvicinano tanto sono permeati dei problemi e caratteristiche di sicurezza quindi quando possibile e noi lo faremo adesso quando possibile trattiamo di autenticazione e autorizzazione nelle applicazioni web in particolari è sempre meglio se possiamo appoggiarci a delle pratiche delle best practice e dei processi che sono in un qualche modo standardizzati quindi sicuri in un certo senso perché verificati tante tante volte e ormai talmente comuni che è difficile andarsi a inventare o fare qualcosa di totalmente sbagliato se si segue bene il processo che che diciamo standardizzato in questo senso in ogni caso se poi voi doveste fare autenticazione e autorizzazione in produzione quindi su un sito pubblico eccetera è sempre bene avere degli abisi confrontarsi con degli esperti di sicurezza per essere sicuri di fare le cose correttamente di memorizzare i dati soprattutto degli utenti soprattutto se chiedete dati personali in maniera corretta eccetera eccetera questo sarà un po' anche il mantra di alcune di queste slide sempre bene chiedere a esperti di sicurezza prima di ovviamente fare il deploy e mettere pubblico un servizio web che richieda autenticazione e autorizzazione e ci sono diversi livelli di autorizzazione c'è l'utente che per l'autorizzazione e l'autenticazione vede delle pagine di login e agisce sul login e sul logout e anche sulla navigazione certe pagine gli saranno accessibili navigando il sito per esempio e certe pagine no poi ci sarà il livello nel nostro caso dell'applicazione React che dovrà sapere se l'utente è loggato o meno e comportarsi diversamente ovviamente e ricordarsi e chi è quale autorizzazione ha questo utente e ricordarsi eventualmente delle informazioni relative all'utente perché magari gli serve mostrare queste informazioni su molteplici pagine come lo fa React beh utilizza quello che abbiamo già visto abbondantemente può mettere queste informazioni soprattutto le informazioni dell'utente nello stato o nel contesto se deve essere disponibile a più pagine contemporaneamente quindi senza voler propagare lo stato dal padre al figlio al figlio al figlio e così via quando queste informazioni vanno poi impostate in React beh questa è una sorta di tabella riassuntiva vanno sicuramente impostate al login le informazioni relative all'utente sull'identità e anche in parte forse sull'autorizzazione e rimosse al logout come potete immaginare e se serve richieste interrogate durante la navigazione per magari mostrare certe informazioni specifiche sotto diciamo così l'applicazione React c'è il browser che ha come compito di ricordarsi la sessione di navigazione quindi ricordarsi che un utente ha fatto login e ha fatto login nella pagina del login ma quel login è ancora l'identità stabilita è ancora valida anche nella pagina successiva e nelle tre pagine successive non è che esaurisce dopo che ha premuto il bottone login e quando fa il refresh della pagina è ancora loggato se non ha fatto il logout quindi ha da ricordarsi queste informazioni come lo fa? lo fa attraverso i cookie di sessione che lo vediamo che vedremo fra poco e quando i cookie di sessione vengono impostati per ricordarsi appunto questa sessione di navigazione i cookie di sessione vengono ricevuti al login nella risposta HTTP insieme alla risposta sì nella risposta HTTP e poi vengono rinviati dal browser al server a ogni richiesta HTTP per dire al server sono sempre io sono ancora autorizzato sono ancora loggato come quella persona e quindi trattami da utente loggato con queste certe ovviamente livelli di autorizzazione il server dall'altra parte ovviamente ricorderà questi dati di sessione li creerà in realtà anche questi dati di sessione come memorizzando in uno storage di sessione che viene creato dal server e poi viene riempito quando una persona quando un utente fa il login questo storage di sessione può essere implementato in diversi modi può essere uno storage in memoria quindi appena il server riparte viene tutto cancellato che come di nuovo potete immaginare può andare bene per la parte di sviluppo ma se dovete rendere un sito un'applicazione online non va bene che appena il server si riavvii si perdano tutte le informazioni sugli utenti loggati ma questo storage può anche essere su file su database e così via che quindi più adeguato a un server in produzione più persistente di nuovo quando queste informazioni vengono inserite vengono inserite al login vengono tolte al logout e a ogni richiesta HTTP quando il browser manda questo cookie di sessione per verificare ovviamente il server verifica che questo cookie sia valido le informazioni del cookie siano corrette che la sessione sia ancora intera all'interno del server abbiamo poi delle root abbiamo le root a livello di API HTTP che devono verificare se quell'utente specifico o l'utente non loggato in generale è autorizzato ma anche eseguire le API vere e proprie in caso sia autorizzato o meno verificando ovviamente la validità della sessione e quando lo fanno a ogni richiesta HTTP che ricevono per cui hanno delle API a cui rispondere nel server ci saranno ovviamente anche delle root di login e di logout che servono a realizzare l'autenticazione e quindi creare queste informazioni di sessione e logout dimenticare questa autenticazione e quindi distruggere le informazioni sulla sessione corrente e infine abbiamo anche il database che avrà al suo interno al login dell'informazione di login dell'informazione relativa all'utente nel caso di un utente password il nome utente della password e quindi dovrà recuperare quelle informazioni validarle attraverso delle query e attraverso una criptazione della password perché applicando le best practice di cui dicevamo prima non andremo mai neanche per fase di sviluppo a mettere una password in chiaro all'interno del database ma faremo qualche operazione per salvarla in qualche maniera un pochino più sicura quindi il database al tempo di login recupererà queste informazioni e se necessario quando ci sono delle richieste HTTP che riguardano un utente specifico andrà ovviamente a verificare che quell'utente specifico abbia delle informazioni e restituisca e restituisca quindi al server e poi di conseguenza l'applicazione web chiamante i dati relativi all'utente specifico nel nostro caso nel nostro esempio degli esami ovviamente se faccio il login io visualizzerò i miei esami se fa il login un'altra persona ovviamente visualizzerà i suoi esami e non i miei e questa distinzione la fa anche il database associando le informazioni sull'utente alle informazioni sugli esami specifici ora i due concetti che ci servono due concetti diciamo teorici che ci servono e che affrontiamo abbastanza velocemente sono quelli di cookie e di sessione che sono due delle parole che ho utilizzato in questa in questa tabella voi avete familiarità con cookie e sessione oppure no oppure poco non tanta molto poco ok allora aggiungiamo forse un poco alla familiarità che avete per quello che ci serve senza andare di nuovo eccessivamente nel dettaglio perché non ci interessa andare a costruire a mano una sessione andare a costruire a mano un cookie in questo caso allora sessioni partiamo dalle sessioni partiamo da una considerazione no? la considerazione che http è stateless quindi ogni richiesta è indipendente e deve essere autocontenuta c'è una richiesta c'è una richiesta e c'è una risposta la richiesta successiva non sa cosa è successo by design non sa cosa è successo nella richiesta precedente o in quelle cinque precedenti però appunto come sappiamo come abbiamo esperienza le applicazioni web possono avere bisogno di mantenere alcune informazioni tra diverse richieste tra diverse interazioni l'esempio del login è il più chiaro se io faccio login in una richiesta http e il server mi dice ok adesso sei loggato in quella dopo questa informazione ok sono loggato deve rimanere in qualche modo e deve saperlo soprattutto il server e qui c'è un esempio che non ha a che fare con il login ma è un esempio chiaro che noi sperimentiamo sperimentiamo che funziona tutte le volte ma se usiamo solo esclusivamente http senza introdurre nuovi concetti senza introdurre nuovi elementi non potremmo farlo questo è un esempio in uno shop online pensate su amazon mettiamo un libro nel carrello se noi andiamo in un'altra pagina quindi facciamo un'altra richiesta http non vogliamo che il nostro libro sparisca dal carrello ma vogliamo che questo stato gli elementi che sono nel carrello vengano ricordati all'interno del sito mentre navighiamo nel sito questa è la nostra esperienza usuale con i siti web che si ricorda o chi siamo si ricorda le azioni che abbiamo fatto si ricorda gli elementi che abbiamo messo nel carrello della spesa per l'acquisto e questo viene fatto spesso attraverso la sessione la sessione è un è una diciamo così è un sono dati che sono temporaneamente in maniera interattiva scambiati tra più parti e ovviamente coinvolge uno o più messaggi in entrambe le direzioni e quindi mantiene diciamo così questo contenitore contiene una certa serie di richieste racchiude insieme aggiunge uno stato comune a una certa serie di richieste e spesso una delle parti che interagisce in questa sessione mantiene questo stato dell'applicazione spesso questo è il server quindi a un certo punto il browser nel nostro caso stabilirà chiederà al server di stabilire una sessione quando facciamo il login nel nostro caso specifico e il server manterrà quella sessione attiva finché non facciamo il logout e qual è quello stato che mantiene il server in questo session storage che dicevamo prima beh manterrà alcune informazioni relative all'utente che permetteranno al browser quando manderà una nuova richiesta di sapere il server potrà sapere se questa richiesta che arriva dal browser è valida ed è di un utente per esempio già loggato e quindi fornirà la risposta corretta all'utente manterrà questo stato sull'utente oppure se è una richiesta nuova di un altro utente che non è ancora loggato e quindi fornirà una risposta diversa per esempio non puoi accedere a questa risorsa perché non sei loggato o non hai privilegi e così via quindi è un diciamo così uno stato che viene mantenuto tipicamente dal server in cui si possono racchiudere molteplici richieste e risposte HTTP nel nostro caso iniziato in un certo tempo al login e terminato a un altro tempo per esempio al logout o dopo dopo un certo periodo di tempo di inattività quindi con qualche regola qualche criterio il meccanismo di base per mantenere le sessioni è l'ID di sessione quindi dopo che viene fatto il login il browser il client riceve da server un ID di sessione questo ID di sessione è quello che permette di mantenere questo stato quindi quello che permette al server di riconoscere che le richieste HTTP che riceverà da quel momento in poi sono autenticate quindi questo meccanismo quindi da una parte il server avrà questo session storage dall'altra emetterà questi ID di sessione uno ipotizziamo che il client tutte le volte manderà al server insieme alle sue richieste HTTP così il server può verificare che quello di sessione sia valido e se è valido fare quello che deve fare quindi rispondere in maniera corretta questi ID di sessione va ovviamente dato che HTTP è stateless inviato a ogni singola richiesta HTTP e deve farlo il client in modo che il server possa riceverlo e questa informazione deve essere memorizzata lato client deve ovviamente essere mandata a ogni richiesta che fa parte della sessione se no non si può il server non può sapere che siamo ancora all'interno di quella sessione e non ne siamo usciti e ovviamente le dili sessione non deve avere un'informazione che sia personale non deve avere dati riservati più più generale è meglio è un numero una codifica un qualcosa e l'id di sessione è tipicamente memorizzata e inviata come un cookie quindi cosa fa il client quando fa dopo il login appena riceve questi lì di sessione con un cookie cosa fa prende questo cookie se lo salva nel suo storage dei cookie e ogni richiesta che arriva ovviamente da quel dominio da quell'applicativo da quel client per cui ha un cookie invia il cookie al server questo cookie al suo interno avrà il sessione e quindi il server potrà verificare il sessione eccetera eccetera ora che cos'è il cookie al netto che è quella cosa per cui vedete un mucchio di banner con scritto questo sito usa cookie di profilazione eccetera premete qui se siete d'accordo quel cookie quell'informazione lì è una piccola porzione di informazione diciamo testuale memorizzata nel browser nel suo storage dei cookie che è gestita automaticamente dai browser quindi non bisogna fare niente ed è ripeto automaticamente mandata dal browser ai server quando il browser ha un cookie che appartiene a un e deve generare una richiesta per lo specifico dominio e porta per cui ha un cookie memorizzato e di nuovo dato che questi cookie sono elementi testuali messi nel browser è sempre meglio non avere mai informazioni personali informazioni riservate memorizzate nel cookie la mail il nome cognome il codice fiscale ecco no sono pessime informazioni da mettere in un cookie o da utilizzare come session in generale poi i cookie si possono utilizzare anche al di là delle sessioni per memorizzare informazioni all'interno del browser ma non interessano soprattutto per questa parte di comunicazione tra il browser e il server per mantenere viva e corretta diciamo correttamente in funzione la sessione e alcuni valori importanti rilevanti dei cookie che potete vedere per esempio se aprite il browser andate nelle impostazioni dove ci sono i cookie e aprite uno dei cookie a caso che il vostro browser ha ha un nome il cookie che è quello obbligatorio che è un valore obbligatorio e ha un valore che è il valore contenuto nel cookie per esempio quindi come coppia che aveva valore quindi per esempio cioè il nome può essere session ID e il session ID può essere 9, 4, dollaro K, K, D eccetera poi ha altre proprietà ha tante altre proprietà ma queste tre sono quelle diciamo così più importanti più comuni il cookie può avere un attributo sicuro che se impostato permetterà l'invio del cookie solo ed esclusivamente su richieste HTTPS non HTTP se è una richiesta HTTP quel cookie sicuro non viene inviato dal browser automaticamente e può avere un attributo che si chiama HTTP only che se impostato dice che il cookie sarà inaccessibile al JavaScript che girerà nel browser mentre se non è impostato il JavaScript potrà leggere e modificare quel cookie ed è buona norma tenerlo impostato in modo che il cookie sia solo gestito dal browser e nessuno né lo sviluppatore che sta sviluppando l'applicazione ma neanche l'utente malevolo che riesce a iniettare del codice JavaScript o l'estensione che gira nel browser che riesce magari a iniettare il codice JavaScript nell'applicazione possa accedere a quei cookie e poi una data di scadenza dopo il quale il cookie è scaduto scade e quindi non è più valido e quindi bisogna richiederne uno nuovo in un certo senso ecco come funziona se vogliamo graficamente quello che vi ho raccontato finora allora prendiamo il nostro caso degli esami abbiamo il browser che avrà un'applicazione web al suo interno che farà una richiesta HTTP post per esempio a slash login e manderà nel corpo di questa richiesta il nome utente e la password in chiaro al server e server avrà ovviamente un API che risponde a login farà i suoi controlli l'username valido l'utente registrato la password è corretta eccetera 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 e se tutto va bene salva crea una sessione per quest'utente e salva i dati di sessione nel suo storage per esempio potrebbe memorizzare ma è un esempio la sessione può essere molto più piccola molto più grande l'username ha alcune informazioni sull'utente che magari recupera dal database il nome il cognome l'età il numero di esami che ha superato eccetera e li mette nella sessione a quel punto risponde alla richiesta HTTP come risponderebbe normalmente non so 200K per esempio ma allega a quella risposta un cookie che ha al suo interno l'ID di sessione che è generato quando viene creata questa session storage il browser riceve la risposta l'applicazione riceve un 200K e quindi agisce come vuole agire l'applicazione ma il browser visto che la risposta ha un cookie si salva questo cookie nello storage dei cookie del browser a quel punto immaginiamo a un certo punto l'applicazione fa un'altra richiesta fa la get di exam dato che questo exam è una richiesta che va allo stesso server di prima come dominio e come porta il browser automaticamente aggancia a questa richiesta HTTP allega a questa richiesta HTTP che fa l'applicazione client come abbiamo fatto finora per esempio in react con la fetch aggancia il cookie che ha ricevuto prima se è ancora valido e se ha tutti insomma se è corretto valido se rispetta i parametri che abbiamo detto prima quindi questi se non è scaduto se è scaduto ovviamente non la manda e quindi aggancia allega questa richiesta get di esami il cookie col session ID che ha ricevuto il server riceve la get controlla se A c'è il cookie e B se c'è se un session ID è quello corretto è quello memorizzato è quello valido se lo è recupera lato server le informazioni associate a questo ID utente di nuovo lo username quelle memorizzate qui lo username il nome e quant'altro e se tutto va bene genera la risposta degli esami quindi l'elenco degli esami come abbiamo fatto noi e questo ovviamente si ripete per ogni chiamata HTTP che fa il browser e al server se per qualche motivo questo session ID non è valido o non riesce a verificarlo in base a quello che ha nello session storage a quel punto dovrebbe dare un messaggio d'errore 401 non autorizzato e il browser non riceverà la risposta ma riceverà solo una risposta HTTP con stato 401 e di conseguenza non dovrebbe per esempio visualizzare la pagina perché vuol dire che per qualche motivo quella sessione è scaduta o perché l'utente ha fatto logout o perché il server ha dei problemi o perché c'è stato insomma per qualunque motivo perché il cookie non è quello giusto e quindi qualcuno ha manomesso il cookie e ha messo un session ID sbagliato per qualunque motivo quindi questo è il processo e come vi dicevo il session storage lato server quindi non cambia tantissimo lato client dal nostro punto di vista se non la logica applicativa il fatto che ci sia il login il fatto che alcune pagine quando uno non è autorizzato non vanno mostrate eccetera però non cambia un granché rispetto alle chiamate HTTP che vengono fatte perché il cookie è totalmente è gestito in maniera totalmente automatica dal browser quello che cambia è ovviamente il server perché oltre a dover gestire l'API di login deve anche gestire questa creazione della sessione la memorizzazione delle informazioni la creazione del cookie la verifica del cookie eccetera 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 qui poi c'è una nota sulla sicurezza che lascio a a voi da leggere e di nuovo riprende quel concetto che abbiamo detto prima sempre appoggiarsi a best practice sempre cercare soprattutto per queste cose cercare principalmente per queste cose best practice soluzioni processi standardizzati se esistono già dei framework che fanno l'autenticazione che sono molto conosciuti usati testati validati eccetera usate quelli non andate a fare tutto questo processo a mano non andate a costruirvi tutto questo processo a mano da zero perché ovviamente come capite ci sono tanti punti di errore di possibili errori di fallimenti di cose che uno può fare in maniera poco corretta diciamo soprattutto da un punto di vista della sicurezza non tanto dal punto di vista del funzionamento quindi di nuovo cercate quanto possibile di appoggiarvi su pratiche esistenti su framework librerie che fanno queste parti di autenticazione autorizzazione in maniera standard e quindi vengono ampiamente utilizzati verificati testati quindi vi danno una garanzia una sicurezza maggiore rispetto a fare tutto a mano e quando avete dei dubbi rivolgetevi se possibile quando se farete un'applicazione web ovviamente da rilasciare al pubblico o comunque non da usare solo sul vostro computer ecco come per questo esame appoggiatevi chiedete sempre avviso a degli esperti di sicurezza ora in pratica dato tutto quello che abbiamo detto ovviamente noi non andiamo a fare tutto questo a mano per lo stesso principio che abbiamo appena detto appoggiamoci su qualcosa che implementa questi meccanismi in maniera ragionevole in maniera diciamo sicura che siano testati validati che siano ampiamente utilizzati quindi useremo un qualcosa che ci aiuterà che gestirà per esempio la sessione in automatico usando le best practice che ci sono che genererà da soli cookie HTTP only perché è una best practice e quindi lo fa lo fa di default e senza noi dover andare a impostare a mano i parametri dei cookie che penserà a generare un session ID che sia ragionevolmente sicuro e quindi non contenga informazioni personali o comunque non contenga il nome utente o la password o l'indirizzo mail della persona che ha fatto il login e così via però prima di vedere quello ripassiamo il flusso di login non parliamo ovviamente in questo rientra anche la registrazione dell'utente che funziona in maniera simile ma noi dato che è comunque l'ultimo argomento del corso ci accontentiamo del login quindi nel nostro esempio ma anche nel nostro esempio ma anche da quello che vi chiederemo per l'esame la registrazione non sarà mai richiesta l'utente sarà già registrato già comparirà sul database con un utente password e noi gestiremo il login ma questo framework che vedremo questi processi ovviamente funzionerebbero anche se noi aggiungessimo quella parte quindi niente di che ho una domanda in chat HTTPS invece di HTTP è qualcosa gestibile dal codice che scriviamo o dal provider è qualcosa gestibile dal server quindi in parte impatta in alcuni casi sul codice che scrivi ma soprattutto è il server che deve sapere che deve funzionare deve pubblicarsi non su HTTP indirizzo localhost 3000 ma su HTTPS indirizzo e per farlo ha bisogno di un certificato che viene generato che potete generare per esempio da Let's Encrypt è un sistema per generazione di certificati agli sviluppatori lato codice cambia poco cambia niente cambia la configurazione del server che deve dovete dirgli lì c'è il certificato vai a leggerlo e quindi pubblica tutto su HTTPS invece che su HTTP cambia un po' di configurazione diciamo così non di implementazione e appunto se volete per avere un certificato HTTPS certificato si può anche autogenerare ma meglio di no ci sono servizi come Let's Encrypt che offrono a siti certificati HTTPS in maniera gratuita quindi se foste interessati date un'occhiata all'exencrypt.org credo .com comunque ce ne ce ne uno solo chiusa parentesi su HTTPS flusso di login in parte lo l'avete già sperimentato in parte potete ovviamente in parte lo potete immaginare da quello che abbiamo raccontato finora primo passo c'è un form all'interno di una pagina web quindi un utente compila quel form con nella maniera classica non utente password poi il form viene validato e quando spreme invia il form non ha niente di speciale questo del login e se i dati sono ok viene inviata la richiesta al server con un API post tipicamente il server a quel punto riceve la richiesta e controlla se l'utente è già registrato e se la password inviata fa un match con la password che ha memorizzato il server e nell'approccio con un utente password il confronto tra password tra la password che viene inviata dal form e la password che ha il server memorizzato non in chiaro avviene attraverso delle hash criptografiche per cui il server ha memorizzato la password all'hash della password riceve la password in chiaro fa l'hash di quella password e confronta i due hash se i due hash sono uguali o sono compatibili allora dice ok la password è valida se i due hash non sono uguali allora dice no la password che mi ha inviato non è quella che ho memorizzato qualunque questa sia quindi se la password è sbagliata manda indietro o il nome utente o l'utente non è registrato manda indietro una risposta al client dicendogli nome utente o password sono sbagliata se invece sono corrette a quel punto genera un id di sessione memorizza l'id di sessione nel suo storage lato server e crea un cookie come dicevamo aggancia lega alla richiesta http questo cookie e lo invia al browser il browser riceve la risposta http in questo caso del login con per esempio 200k con il cookie quando vede il cookie il browser lo memorizza nel suo storage di cookie e la risposta non so 200k genererà nell'applicazione client un benvenuto Luigi il nome della persona che ha appena fatto il login oppure mostrerà comunque la pagina da utente registrato e loggato questo è il flusso di login come facciamo il form beh il form è un form qualunque è un form di login da creare come componente react con gli stati locali con la validazione esattamente come il form che abbiamo fatto per l'aggiunta di un esame o che avete fatto per l'aggiunta alla modifica di un task durante i laboratori è un form non ha niente di speciale o niente di diverso rispetto a qualunque altro form e chiederà le informazioni che vi servono per fare il login tipicamente il nome utente è la password o la mail è la password e manderà queste richieste attraverso la chiamata post che viene fatta con la fetch esattamente come abbiamo fatto finora dove cambia e dov'è il succo di quello che facciamo oggi è il lato server allora il lato server noi come dicevo prima non andremo a fare a manina tutto per gli stessi motivi che dicevamo poco fa ma useremo un middleware express che serve per l'autenticazione che è uno dei più usati all'interno appunto nel mondo express che si chiama Passport ed è possibile installarlo con npm install Passport ha un sito con pochissima documentazione in realtà molto basato su esempi però ha un sito che si può scaricare e si può installare ha molti vantaggi Passport e beh sicuramente ci permette di non fare le cose a mano visto che insomma il processo non è proprio banale ci sono dei punti di punti di attenzione anche soprattutto per la sicurezza e la cosa buona di Password tra le tante cose buone di Password quelle che vogliamo voglio evidenziare è che è flessibile ed è modulare per cui potete costruire potete rendere Password tanto flessibile quanto volete voi in quanto per esempio supporta più di 500 strategie di autenticazione diverse quindi supporta l'autenticazione non potente Password ma supporta anche l'autenticazione fai il login con Google fai il login con Facebook e potete accusarle tutte insieme se volete ovviamente fornendole come opzioni e lui è capace a gestirle tutte in maniera uniforme al netto di piccole differenze nel codice quindi la configurazione diciamo così l'inizializzazione di Password è la stessa poi in base alla strategia che utilizzate non potente Password login con Facebook login con Google JVT eccetera 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 qualcosa cambia e appunto sono più di 500 quindi davvero c'è praticamente ogni possibile strategia di autenticazione che vi può venire in mente probabilmente lì c'è è anche capace Password di adattarsi a diversi tipi di database in quanto in realtà è abbastanza indifferente rispetto al database è abbastanza agnostico noi lo useremo con SQLite come solito ma si potrebbe anche utilizzare con database no SQL e più importante adotta alcune pratiche alcune di quelle buone pratiche che dicevamo prima automaticamente per esempio i cookie sono generati con questa variabile con questo parametro HTTP OLLI impostato quindi il client lato Java scritto non può accedere a questo cookie per modificarlo per esempio quindi alcune di queste pratiche di sicurezza sono già adottate quindi noi ci appoggiamo sulle spalle di chi ha progettato verificato e continua a mantenere passport per tutti questi aspetti che sono aspetti di dettaglio ma aspetti veramente molto importanti ci sono tre passaggi adesso ci spassiamo sul codice invece di guardarli qui e torniamo qui solo al bisogno ci sono tre passaggi essenziali e dopo che abbiamo ricevuto il form di login nell'API per esempio post login che è una route di express normale come tutte le altre che abbiamo fatto ci sono appunto tre passaggi da fare in passport che sono più relative alla configurazione si scrive codice ma sono più relative alla configurazione primo scegliere e impostare quale strategia di autenticazione adottare noi adotteremo nomo utente password ma si possono adottarne altre e quindi bisogna impostare le cose in maniera che ok la richiesta conterrà nomo utente password cosa me ne faccio di quel nomo utente password le vado a confrontare sul database che database quindi questo ovviamente è un qualcosa che lo sviluppatore deve decidere deve fare due personalizzare ed eventualmente installare middleware aggiuntivi dato che password è modulare noi per esempio aggiungeremo il middleware sulle sessioni perché ci sono meccanismi di autenticazione che non abbiamo fatto di cui non abbiamo parlato e di cui non parleremo che per esempio non usano la sessione ma usano altri concetti per mantenere un qualcosa che alla fine funzionalmente si comporta come la sessione quindi per mantenere un link tra le varie richieste HTTP però non col concetto di sessione su server e quindi c'è un middleware che abilita la sessione e poi ci sono altri middleware quindi se non si usa quello il password funziona ma non usa la sessione nel lato server come invece vogliamo usare noi e poi decidere e configurare quale informazione dell'utente andiamo a inserire all'interno della sessione qui abbiamo scritto vedete all'interno della sessione abbiamo messo un nome utente alcune informazioni dell'utente dei dati temporanei eccetera questo questo è lo sviluppatore che può scegliere che cosa mettere all'interno della sessione che sia disponibile nello storage di sessione sapendo che comunque è su server quindi le informazioni può metterle o qui oppure può recuperarle nel database dipende cosa preferisce cosa è più comodo cosa è più veloce secondo anche le proprie strategie di implementazione cosa fa il server allora iniziamo a impostare questa cosa e poi vediamo questi tre passaggi quindi partiamo dalla parte facile il form di login io non l'ho ancora fatto anzi partiamo a vedere se tutto questo funziona giusto per sicurezza quindi fatemi far partire il server e questo è quello che avete nel repository che ho condiviso su Slack all'inizio della lezione vediamo se funziona tutto innanzitutto ma ci vorrà un attimino ok questo è il nostro React score mini abbiamo detto no? vedete c'è solo la tabella degli esami con i voti e le date nessuna azione e quindi poi solo due get una per prendere l'elenco dei corsi una per prendere l'elenco degli esami basta molto semplice perché appunto andiamo ad aggiungere tutto quello che riguarda l'autenticazione e quindi manteniamo è più facile andare a navigare nel codice perché c'è meno roba che abbiamo messo ma come dicevo prima nel caso qualcuno si sia collegato dopo che abbia detto questo comunque pubblicheremo anche la versione completa del React score con l'add la delete eccetera perché non ha impatto la parte di autenticazione su quello in quanto sono comunque chiamate HTTP che noi chiamiamo la get per gli esami o che chiamiamo la post per raggiungere un esame è sempre una chiamata HTTP in cui bisogna verificare nello stesso identico modo se l'utente è autorizzato a fare quella chiamata quindi fatto per uno basta copiare incollare su tutto il resto quindi questo va allora fatemelo solo stoppare un attimino creiamo il form di login quindi andiamo creiamo una root prima di tutto così abbiamo la pagina dedicata al login qui quindi root path questo è tutta cosa che abbiamo già fatto non cambia assolutamente niente rispetto a quello che alle altre root che abbiamo fatto in precedenza così lo usiamo anche se volete come come ripasso quindi una root di login che renderizzerà un componente che chiamiamo non lo so login form tanto ci sarà solo il form del login in questa pagina ok form di login che ovviamente dobbiamo fare quindi creiamo una nuova pagina un nuovo file javascript che chiamiamo login components così fa il paio con exam components e all'interno di login components andiamo a crearci il nostro form adesso potevamo anche copiarlo incollarlo da probabilmente react score facciamolo così evitiamo di scriverci a mano il form da zero facciamo un po' prima react score tanto è molto simile al form per l'aggiunta di un di un esame andiamo solo invece di aggiungere un esame andiamo a fare il questo qua andiamo a fare nome utente password ecco copiamo questo incolliamolo qui e poi togliamo tutto quello che non ci serve quindi ci serve sicuramente non ci serve location questo l'abbiamo chiamato login form non ci servono delle props direi quindi stati ci serve sicuramente username e set username quindi i campi username i campi che sono nel nel form no? che chiederemo il nome utente e la password che inizializziamo a vuoto poi ci servirà probabilmente questo degli errori non ci serve il submitted l'endor submit ci serve qui non dobbiamo sicuramente creare un esame quindi iniziamo a cancellarlo la validazione probabilmente ci servirà per esempio username non deve essere vuoto password non deve essere vuota e non lo so password non deve essere minore di sette caratteri eccetera questo si può sempre aggiungere e poi altre cose se se vogliamo e così via e se è valido no in realtà delle props ovviamente ci servono se è valido chiameremo non lo so un metodo che chiamiamo login a cui passeremo delle credenziali che saranno quelle che abbiamo il nome utente della password che abbiamo messo nel server quindi per esempio potremmo avere un fatemi inizializzare questo anche pulire quello e non so const credenzial uguale username virgola password no un oggetto che contiene dentro le uniche due informazioni del form e poi adesso andiamo a implementare questo metodo qui che cosa fa il nostro form il nostro form sarà molto simile a quello di prima andiamo solo a togliere le cose che non ci servono quindi non ci serve più quella parentesi graffa in fondo e non ci serve più questo ok avremo sempre messaggio d'errore poi non avremo un un campo per il corso ma avremo un campo per username anzi questo togliamolo lasciamone solo due uno e due quindi quindi questo sarà username e l'etichetta usiamo l'email come username e questo sarà tipo email come value avremo abbiamo detto che si chiama username e all'onchange faremo set username esattamente come prima facevamo set score e qui invece di selected date avremo password l'etichetta sarà password il tipo del form del campo di input sarà password così non vediamo cosa viene scritto il valore sarà password e sull'onchange facciamo set password e poi mettiamo un bottone che chiamiamo login che chiama quell'endor submit e basta e facciamo export login form ok giusto questo praticamente abbiamo preso il form che avevamo prima abbiamo tolto le cose relative agli esami e abbiamo messo un campo nomotente password adesso vediamo se l'abbiamo creato giusto questo form abbiamo detto prende una proprietà che è questo login quindi qui ci va nella root di login ovviamente un login uguale do login per esempio e a questo punto possiamo creare questo metodo do login quindi const do login uguale async perché avremo dentro una fetch 99 su 100 anzi avremo sicuramente dentro una fetch e faremo qualcosa tipo await api punto login credentials che sono le credenziali che riceviamo dal form credentials ok e poi vabbè volendo possiamo gestire gestire gli errori quindi cosa succede se il server ci risponde 401 eccetera però lo adesso tanto non abbiamo un server quindi segniamocelo ovviamente gestire gli errori per esempio utente non autorizzato utente non non valido login fallito cose così sì utente non registrato queste cose qui password sbagliata nome utente password sbagliata queste cose qui quindi anzi sarà principalmente sarà nome utente e o password errata eccetera e e andiamo anche a fare queste API così qui vedete ripeto niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo fatto finora stiamo costruendo un form al submit form facciamo un API facciamo una chiamata HTTP con la fetch quindi questo sarà una sync function login l'abbiamo chiamata giusto login login di credential di nuovo che sarà nel nostro nome utente password e a questo punto non ho più una post quindi facciamo una post let response await fetch a un certo indirizzo che adesso andiamo a scrivere così facciamo un piccolo ragionamento anche su questo metodo due punti post header questo di nuovo tutto come solito content type application json potremmo anche copiare avessimo avuto un'altra post potevamo copiarla ovviamente e appunto modificare i campi che ci interessano e poi ci sarà il body che sarà json punto stringify di credential che è un oggetto javascript con un campo username e un campo password giusto per ricordarcelo e poi c'è la fine di questa fetch e poi if response punto ok perché supponiamo che se va a buon fine a quel punto per esempio potremmo dire const user uguale await response punto json boh e possiamo tornare il nome dell'utente user punto name quindi restituiamo da server al client un oggetto che ha dentro anche il nome dell'utente quindi proprio il nome proprio dell'utente e così possiamo stampare a schermo non lo so benvenuto utente nome dell'utente poi scusate qui poi di nuovo qui come al solito non facciamolo adesso però poi nella soluzione quella completa ci sarà qui ovviamente to do gestire fallimento gestire response non ok quindi di nuovo il caso di prima per cui nome utente e password sono sbagliati quindi qui abbiamo detto che abbiamo restitutiamo un nome quindi per esempio chiamiamolo user e poi usiamo lo stesso set message che dovrebbe ancora esserci che visualizza un messaggio in alto nella home page in cui copiamolo da qua in cui il messaggio sarà benvenuto quindi welcome dollaro user tanto user è una stringa perché conterrà il nome e il tipo del messaggio non è un messaggio d'errore quindi è un messaggio che comparirà in verde di successo quindi e buono il nostro login annetto che il server non c'è dovrebbe funzionare proviamolo facciamo mettere const user uguale Luigi e vediamo cosa succede ecco cosa succede in realtà vedremo che non succede non quello che ci aspettiamo ma un pezzo alla volta lo sistemiamo quindi facciamo partire questo abbiamo ricordiamoci due root separate una sulla root e una su login login form non è definito perché non l'ho importato login form prom login components e di qui manca ovviamente tutto import e cos'è che ci manca form button from react bootstrap e anche alert ok login è definito ma mai usato riga 31 uno sì perché non l'ho esportata ok basta basta perfetto quindi nella nostra root ovviamente abbiamo ancora questo ma la pagina slash login va bene due cose poi slash login abbiamo il nostro form quindi noi scriveremo qualcosa questa è una mail quindi prendiamo l'indirizzo mail che è quello corretto che poi troveremo nel server quindi student chiocciola studenti punto polito punto it la password corretta è student ovviamente adesso non c'è un server se noi premiamo login viene eseguito tutta quella roba e vediamo scritto welcome luigi quindi tutto funziona ovviamente ci compare un benvenuto sulla pagina di login che non è proprio quello che vorremmo perché noi lo vorremmo sull'altra pagina sulla pagina dove ci sono gli esami e quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo fare un redirect da questo login distruggere questo componente e rimpiazzarlo con la tabella ok come lo facciamo lo facciamo impostando uno stato che tanto ci servirà che chiamiamo logged in logged in lo stato che ci darà se l'utente è loggato o meno quindi use state e lo mettiamo a false perché all'inizio l'utente non sarà sicuramente loggato e a questo punto qui quando faremo il login andremo anche a dire set logged in a true perché vuol dire che se siamo arrivati qui vuol dire che il login è andato a buon fine e quindi stampiamo il messaggio benvenuto e qui allora andremo a dire questa pagina anche se sono una pagina login quando premo login devo andare nella root se sono loggato quindi potrei dire logged in se sono loggato allora faccio un redirect altrimenti visualizzo la pagina di login faccio un redirect a che cosa? alla root all'home page redirect to slash ok e poi in realtà non dà errore ma gli serve anche questo perché se no non funziona quindi raccogliere tutto dentro è un unico elemento JSX anonimo allora salviamo e vediamo cosa succede quindi qui riscriviamo studenti chiocciola studenti la password non importa tanto nessuno la sta controllando se faccio login vedete torno giustamente nella root e mi dice benvenuto Luigi benissimo ora togliamo questo quindi di nuovo react lato react non c'è niente di particolarmente strano stiamo gestendo uno stato renderizzando cose niente di nuovo rispetto a quello che ho visto finora e adesso andiamo però non a fare tutto finto senza server ma andiamo a agganciarci un server quindi ripristiniamo quest'API e qui andiamo a scrivere quale sarà la nostra API a cosa facciamo questo post la maniera classica è login se noi pensiamo e va bene se noi pensiamo a quello che abbiamo fatto finora per cui quando volevamo creare un esame cosa facevamo facevamo una post a esami e quando volevamo creare un task a task senza create perché un post sulla collezione di elementi fa già se usiamo la struttura un post su tutti gli esami crea un nuovo esame un post su tutti i task crea un nuovo task qui che cosa creiamo quando facciamo il login così ripassiamo la parte che abbiamo visto finora nelle slide cosa creiamo quando facciamo il login una sessione esatto quindi se vogliamo imitare con lo stesso comportamento quando creiamo un esame facciamo una post alla collezione degli esami quando cancelliamo un esame facciamo una post facciamo una delete al singolo esame contenuto nella collezione se vogliamo imitare quel comportamento quando facciamo il login creiamo una singola sessione quindi facciamo una post alla collezione delle sessioni e poi quando faremo un logout cancelleremo una sessione la singola sessione che per ogni browser ce ne sarà una sola alla volta rispetto al server quindi avremo un API tipo session slash current o actual o uno non importa tanto ce ne sarà una sola però anche scrivere login va bene non è un problema giusto per fare questo anche piccolo collegamento con quello che abbiamo visto sull'API quindi adesso lato react teoria abbiamo fatto tutto perché questo manda una richiesta al server adesso andiamo a iniziare poi facciamo una pausa a lavorare su server il server è diventato molto corto perché avevano tolto tutto sono rimaste solo le due API su exam e cosa ci serve su server dobbiamo installare passport l'abbiamo detto che usiamo passport quindi installiamo passport npm install passport ora cosa ci serve sul server ci serve facciamo anche così e dividiamolo queste sono users API cosa mi hai detto che ci serve cosa scrivo qui esatto app.post poi andiamo a vedere cosa ci scriviamo no? però slash API slash sessions rec magari fuori dalla virgoletta della virgola rec res arrow function eccetera ok cosa andiamo a scrivere qui dentro qui dentro qui dentro dobbiamo fare il login deve succedere a un certo punto deve succedere qualcosa per cui a un certo punto possiamo scrivere res punto json e ritornare l'utente logato no? perché dal lato react ci aspettiamo delle informazioni sull'utente in cui estrarre il nome quindi a un certo punto dobbiamo scrivere res punto json o meglio res punto sì res punto json così torna automaticamente un 200 ok anche giusto? siamo convinti che questo sia il punto d'arrivo e ci manchi quello che c'è qui in mezzo ok ora quello che c'è qui in mezzo in realtà non c'è molto qui in mezzo in realtà non c'è molto qui in mezzo ma ovviamente c'è passport qui in mezzo che fa tutte quelle cose che abbiamo detto sulla sessione allora come facciamo a scrivere quello che c'è qui in mezzo e far sì che password funzioni correttamente allora prima di tutto ci serve l'abbiamo installato importare passport no? passport require passport e questo l'abbiamo detto poi e torniamo un attimo sulle slide poi abbiamo detto che dobbiamo scegliere e impostare quale strategia d'autenticazione vogliamo adottare tra le più di 500 che passport mette a disposizione noi abbiamo scelto quella classica non motente password abbiamo già fatto il form quindi non andiamo a cambiarla e allora dobbiamo impostarla di più dobbiamo installare la strategia non motente password e password che si chiama passport local quindi installiamola npm è modulare no? quindi adesso installeremo un po' di cose passport local mentre si installa questa strategia si chiama local strategy che dobbiamo quindi poi anche importare perché l'abbiamo installata e dobbiamo poi impostarla come middleware esattamente come abbiamo impostato il middleware del logging o il middleware per il json per parsificare le risposte il json dobbiamo scrivere passport.use quindi non un middleware di express ma un middleware di passport in questo caso perché è una strategia di passport passport.use new local strategy questa strategia locale e questa strategia locale avrà su interno una funzione che riceve tre parametri username password che casualmente sono le stesse che abbiamo mandato dal client al server e un terzo parametro che si chiama done che sarà in realtà un oggetto di risposta che verrà restituito dalla funzione questa funzione username password e done si chiama la callback di verifica cioè ha l'obiettivo di verificare che l'utente che ha quel nome utente e quella password esistono nel database e che coincida tutto eccetera 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 quindi fa la verifica effettiva che le informazioni che riceve sono quelle corrette informazioni che riceve dove riceve nella post in questa post che abbiamo iniziato a scrivere qui quindi qui a un certo punto chiameremo qualcosa di password di passport passando le credenziali che sono nel corpo di questa richiesta e queste credenziali verranno automaticamente verrà chiamata questa funzione che automaticamente che verificherà che queste credenziali siano corrette se le credenziali sono corrette verrà tornato questo oggetto done con come secondo parametro user quindi l'utente che ha fatto il login e le informazioni sull'utente che ha fatto il login e se invece non sono corrette verrà restituito questo oggetto done con null che un primo parametro falso al posto dell'utente perché non c'è un utente non abbiamo potuto verificare un utente e poi un messaggio d'errore che è nome utente password incorretta che sarà il messaggio d'errore che l'applicazione React potrà visualizzare ecco passport e questo ricordatelo di default si aspetta di ricevere nel JSON o comunque nel corpo del body nel corpo della richiesta che arriva al metodo di login si aspetta di ricevere con la strategia locale un campo che si chiama username e un campo che si chiama password non un campo che si chiama email non un campo che si chiama name non un campo che si chiama psw esattamente username e password di default si aspetta quelli se non trova un campo username un campo password non funziona da errore perché non riesce a fare il login non riesce a creare e verificare le informazioni nella sessione è configurabile questo se proprio uno ci tiene è configurabile prima di questa di questa funzione ma noi manteniamo lo stand il comportamento di default quindi manteniamo infatti l'abbiamo fatto non per caso anche se chiediamo l'email nel form noi mandiamo se guardate il codice che abbiamo scritto mandiamo un json con username e password perché sono esattamente i campi che passport si aspetta di nuovo configurabili lato passport ma va bene anche per semplicità e per velocità usiamo direttamente quelli che poi sono i più comuni qui poi c'è una piccola più descrizione di cosa fa questo done allora questo done se ha come primo valore null e come secondo valore l'utente sono credenziali valide e quindi poi restituisce l'utente se ha come secondo valore falso sono credenziali invalide se ha un terzo parametro messaggio sono credenziali invalide e c'è la spiegazione della credenziale invalida non valida oppure può avere solo un oggetto il primo che è l'errore nel caso in cui ci sia un errore di applicazione per esempio un errore sul db quindi un errore più significativo e l'utente questo user è qualunque oggetto che contiene alcune anche informazioni relativamente all'utente che si sta validando attualmente in questo momento quella esecuzione della funzione ora vedete cosa fa questa funzione adesso andiamo a scriverla praticamente così o quasi riceve username e password passa in questo caso a un metodo del DAO che non abbiamo ma che costruiremo che si chiama get user username quindi ipotizziamo che prenda da una tabella l'utente da una tabella l'utenti vada a cercare che ci sia un utente che si chiama che ha come nome utente esattamente quello passato dove il nome utente sarà anche la chiave primaria del database in questo caso e se questo metodo che è un metodo di database ritornerà una promise che viene risolta verrà risolverà un oggetto utente user che se è valido tornerà l'utente se non è valido perché il nome utente è sbagliato perché la password è sbagliata eccetera eccetera tornerà il messaggio d'errore quindi la maggior parte del lavoro lo fa ovviamente questo get user che verifica sul database nel nostro caso se c'è l'utente in fase di login ovviamente questo potrebbe essere sul database ma potrebbe anche essere in un'applicazione più stupida di esempio potrebbe anche essere un se username uguale 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 student chioccio studenti punto 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 it and password uguale 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 student allora file return null user else manda l'errore un'applicazione infinitamente stupida ad esempio un'applicazione seria avrà ovviamente un collegamento col database che verificherà queste informazioni o con un database che verificherà queste informazioni nel nostro caso abbiamo già il database pronto usiamolo e anche voi per il laboratorio avete già il database con la tabella utenti pronto dall'inizio quindi è solo da utilizzare dicevo prima non mettiamo mai delle password in chiaro nel database perché no ovviamente per motivi di sicurezza ma memorizziamo utilizziamo facciamo un hash della password e memorizziamo l'hash della password così che nessuno possa partendo dall'hash recuperare la nostra password neanche noi perché nessuno può perché la funzione di hash è una funzione che va solo in una direzione quindi data un testo creo l'hash ma dato l'hash non posso ricreare il testo originale e come lo si fa e come lo si fa tipicamente nel mondo delle applicazioni web lo si fa con delle funzioni di hash o degli algoritmi di hash e un modo comune e ancora sicuro e ancora abbastanza utilizzato per farlo è questo algoritmo che si chiama bcrypt che esiste come modulo node e permette di appunto generare degli hash per esempio la parola password potrebbe generare un hash così quindi vedete è difficile da qui ricapire che questo si tratta di password e potete anche testarlo e creare questi hash da questo sito quindi noi non abbiamo la registrazione utente quindi questa parte l'utente con la sua nome utente password dovete inserirlo voi nel db a mano e come lo inserite come inserite l'hash ovviamente della password potete usare questo sito scrivete la password che volete premette il bottone genera hash e lui vi sputa fuori una roba del genere che voi andate a incollare all'interno della tabella del database e da quel momento in poi avete l'utente registrato e potete quindi fare il login lascialo genera il server in fase di registrazione il client manda la password in chiaro questo si e per quello sarebbe meglio usare HTTPS perché così non sarebbe in chiaro ma sarebbe criptografata e poi il server prende la password in chiaro e memorizza l'hash appunto in express questo metodo bcrypt ha un modulo suo che si può installare e utilizzare che genera sia le password che sono qui qui ci sono un po' di istruzioni che genera sia l'hash data una password in chiaro genera l'hash esattamente come fa quello e anche il metodo di fare il confronto perché dato che l'hash è solo in una direzione data la password testuale genero l'hash e non posso fare il contrario per il login cosa devo fare? beh per il login io ho una password testuale ho un hash dall'altra parte come faccio a confrontarli? non posso dall'hash ritornare la password testuale quindi non posso fare un confronto tra stringhe quello che posso fare è usare il metodo compare di questo algoritmo che prende la password testuale fa il suo hash e poi confronta se i due hash sono compatibili difficilmente saranno uguali ma saranno compatibili cioè se sono due hash che possono essere generati a partire dalla stessa frase testuale indipendentemente da quale questa sia questo metodo compare fa questa operazione quindi nel fase di login uno andrà a mettere qui la password testuale e qui l'hash recuperato dal database se questo compare ritorna vero vuol dire che sono uguali le due password coincidono se torna falso vuol dire che non coincidono questi metodi entrambi sono async perché se no potrebbero essere operazioni anche lunghe su un server il lato javascript e sono e ritorno promise quindi si possono gestire con il den col catch con la sing e la wait e così via ecco poi qui c'è una nota da tenere presente quando poi soprattutto quando genererete voi delle password da inserire nel database l'algoritmo di bcrypt genera degli hash con può generare degli hash con prefissi diversi cos'è il prefisso? sono i primi quattro caratteri dell'hash quindi in questo caso il prefisso è dollaro 2a dollaro e bcrypt come algoritmo in generale in base all'implementazione può generare quattro diversi prefissi dollaro 2a dollaro dollaro 2b dollaro dollaro 2x dollaro e dollaro 2y dollaro quindi quello che cambia è questa lettera che può essere a b x o y il modulo bcrypt supporta solo le hash con dollaro 2a dollaro e 2b dollaro 2b non supporta gli altri due tipi di hash che sono di una specifica implementazione il sito che avete nelle slide questo qui genera solo dovrebbe se non l'hanno aggiornato dovrebbe generare solo hash con la a e con la b quindi non dovreste avere problemi ma nel caso usiate un altro sito o aggiornino il sito per qualcos'altro e quelle x e y dovrebbero comunque essere compatibili col prefisso 2b cosa vuol dire che se vi trovate un hash 2x o 2y e cancellate la x e la y e a suo posto mettete la b questo algoritmo questo modulo node dovrebbe comunque funzionare ovviamente se riuscite a generare direttamente quello con la a o con la b ma quel sito che vi ho dato dovrebbe che è nel slide dovrebbe generare hash con la a e con la b quindi non non c'è problema però se ne usate un altro se per qualunque motivo e vi capita uno con la x o con la y il primo tentativo da fare prima di rigenerare l'hash è provare a mettere la b invece della x o della y perché dovrebbero essere compatibili con quel prefisso per quanto riguarda il confronto ovviamente e come facciamo questo hash questo check beh facciamo la query al database e poi facciamo creiamo questo compare e se il compare va a buon fine facciamo un resolve dell'utente altrimenti non resolve user ma facciamo resolve false questo ovviamente è sbagliato quindi questo non è resolve user ma questo è resolve false poi correggiamo le slide sicuramente perché se il risultato va a buon fine risolviamo l'utente se no mandiamo false così che possiamo entrare in questo if e quindi restituire l'errore notate che non distinguiamo nell'errore anche qui facciamo resolve false se non c'è quindi qui facciamo resolve false se non c'è il nome utente e qui facciamo resolve false se non c'è la password ma non distinguiamo l'errore di nuovo per motivi di sicurezza perché fornendo a un sito al browser l'informazione che il nome utente è sbagliato o la password è sbagliato un utente malevolo può fare degli attacchi di forza bruta perché se sa che il nome utente è giusto provo tante volte finché non trovo la password giusta se so che il nome utente è sbagliato provo tante volte finché non trovo il nome utente giusto se invece io restituisco il messaggio uno dei due è sbagliato o entrambi non importa e ovviamente è più difficile orientare chi vuole fare un attacco di forza bruta a trovare uno o l'altro perché cambiando le combinazioni potrebbero essere comunque entrambi sbagliati o anche sono uno dei sbagliati e il client non lo sa perché l'unico messaggio che gli arriva è uno dei due o entrambi sono sbagliati quindi aggiungiamo questa local strategy quindi l'abbiamo installata sì quindi andiamo ad aggiungerla quindi const local strategy questo è quello che c'è nelle slide quindi require password local punto local strategy però fuori dalla parentesi quindi la strategia locale è username più password a questo punto ancora prima di inizializzare express qui mettiamo un setup passport e in questo setup abbiamo detto la prima cosa che dobbiamo fare è usare questo passport.use e dire new local strategy e new local strategy no in realtà ci vuole una parentesi perché è una funzione new local strategy che ha dentro questa funzione username password e dan ok al cui interno possiamo scrivere quello che abbiamo messo nelle slide quindi questo che c'è qui andiamo a scrivere questo quindi poi dobbiamo fare anche la funzione sul database e quindi user DAO immaginiamo di avere un DAO diverso get user fatemela copiare da qua tanto non cambia niente get user questo si chiama user DAO get user con lo username a quel punto se c'è un den controlliamo questo e altrimenti ritorniamo tutto a posto quindi questo va qui qui manca ancora una parentesi no cosa manca qui allora function la tonda di riga 18 in più no tornare qui sotto chiuse il den manca la che graffa manca allora questa è quella parentesi lì questa è quella parentesi lì questa manca una graffa ok manca la graffa di function ok ok scriviamo ancora questo user DAO che in realtà possiamo copiare di non che lui dalle slide e poi facciamo 10 minuti di pausa tanto è questa roba qua questo è false quindi nel server andiamo a creare uno user DAO punto javascript che avrà questo metodo e che come exam DAO farà aprirà il DB e farà tutto quello che deve fare il database è già a posto ok e qui mettiamo è già false perfetto ok allora facciamo 10 minuti di pausa e poi andiamo avanti col pezzo successivo di Passport Express quindi e nel frattempo installo Bcrypt che non l'ho installato ancora che è abilitare le sessioni sono le 10.10 facciamo una pausa fino alle 10.20 e poi riprendiamo un po' Grazie.